Sotto una pioggia torrenziale il Seravezza Pozzi passa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia superando la Pistoiese per 3 a 0 e adesso incontrerà sulla sua strada il Prato. La banda di Walter Vangioni dopo appena 3 minuti dal via poteva già sbloccare il risultato che però arriva al 23esimo del primo tempo con il solito Lorenzo Benedetti che riesce a sfruttare bene un traversone e di testa supera il portiere Magri. Benedetti di gran lunga il migliore della serata nella ripresa riesce a perfezionare un assist vincente per la corrente Podestà che alla sedicesimo sigla il risultato sul 2 a 0. Arriva poi nella finale della partita anche la rete di Camarlinghi su calcio di rigore al 43esimo che fissa il punteggio sul 3 a 0 meritato per i ragazzi di Vangioni che adesso hanno nel mirino l'impegno di campionato di domenica prossima valido per la decima giornata del torneo. La banda di Vangioni sarà di scena infatti in Umbria visto che affronterà il Trestin alle 14.30 e l'obiettivo non può non essere quello di tornare a casa con un risultato positivo, meglio sicuramente la vittoria che manca in campionato nell'esordio sul campo del Grosseto con il punteggio di 2 a 1. A giudicarsi l'intera posta in palio consentirebbe di lasciare la 14esima posizione in campionato e il successo di Pistoia può fare da trampolino.